Sta per tornare uno degli eventi di presentazione videoludica, se vogliamo, che col tempo è diventato un pochettino più famoso e sto parlando dello State of Play di Sony e, ovviamente, riguardanti il mondo PlayStation. Ce ne sono stati tanti nel corso degli anni, ormai è un po' che li fanno. È un modo per annunciare nuove cose riguardanti il mondo PlayStation, hardware o giochi che sia. Da una news piuttosto breve questa, ragazzi, perché sostanzialmente è un annuncio e proprio due parole su che cosa aspettarci. In sostanza, ragazzi, avremo lo State of Play proprio oggi, sì, perché sto registrando questo video proprio, perché ogni tanto faccio confusione con la data di pubblicazione del video, sì, è oggi alle 23 e tra l'altro lo vedremo insieme su Twitch e nella fattispecie giovedì 25 febbraio ci sarà lo State of Play e questa è la comunicazione ufficiale, questo è il PlayStation Blog, ragazzi, una nuova sfilza e aggiornamenti e approfondimenti in arrivo per questo giovedì. Questo giovedì la trasmissione State of Play metterà in tavola una serie di novità approfondimenti per 10 giochi in arrivo per PS4 e PS5, da cui annunci di nuovi giochi e aggiornamenti su titoli indie di terze parti che avete visto l'ultima volta nella presentazione PS5 di giugno. Lo show durerà all'incirca 30 minuti, non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate, ma piccola nota, non ci saranno annunci su hardware PlayStation relativi all'industria in questa puntata, ci concentreremo sui fantastici giochi in arrivo nei prossimi mesi e se hanno voluto specificarlo un motivo effettivamente c'è. Quindi, ragazzi, che cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto, vi ricordo, lo vedremo insieme in live questa sera stessa, quindi seguitemi su Twitch per l'occasione e vi dico la sincera verità, non mi aspetto chissà che cosa, ok? Toh, la cosa più grossa che mi posso aspettare è magari l'annuncio della data di uscita di Horizon Forbidden West, che già sarebbe qualcosa di grosso, ma non mi aspetto chissà che, perché quest'anno, ragazzi, come vi ho detto già in altri videini di Mini News, è secondo me l'anno di rinvii, cioè di cose che non andranno per il verso giusto per quanto riguarda le date. e questo ha a che fare con moltissime ragioni, ne abbiamo già parlato, però la pandemia è sicuramente una di queste. Io non mi aspetto chissà quali incredibili rivelazioni. Mi aspetto semplici aggiornamenti sui giochi. Questo non vuol dire che non ci possano essere delle cose interessanti. Abbiamo detto di Horizon Forbidden West, ovviamente che interessa moltissime persone, seguito di un gioco molto giocato e molto di successo, però, per esempio, non vedo l'ora di sapere qualcosa in più sull'ultimo Ratchet & Clank. È stato detto già molto e sostanzialmente non mi aspetto niente di spropositatamente diverso rispetto ai precedenti, però ci sono anche altri titolini che effettivamente potrebbero avere degli aggiornamenti abbastanza importanti. Quindi, per carità, ci possono essere sempre delle cose interessanti, ma in questo caso specifico io manterrei un po' basse le aspettative. D'accordo? Comunque sia, lo vedremo direttamente in live, quindi ci vediamo là questa sera. D'accordo? È tutto per questo video. Fatemi sapere che cosa vi aspettate voi, che così confrontiamo con quello che vedremo tra sostanzialmente poche ore, giusto per così come gioco più che altro. La sezione commenti è tutta vostra. Grazie mille per aver visto questo video. E come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, soprattutto in questo caso. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti quanti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto! Grazie a tutti!